Truffa e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Di tanto è indagato un avvocato del Foro di Como nei confronti del quale i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sondrio hanno eseguito l'ordinanza di obbligo di dimora, disposta dal giudice per le indagini preliminari. Indagata per truffa, anche una sua stretta collaboratrice. L'indagine è partita da un risarcimento assicurativo per un incidente stradale mortale, a seguito del quale l'avvocato incaricato dai familiari della vittima avrebbe incassato dall'assicurazione il compenso previsto per le spese legali, nascondendo l'avvenuto pagamento e richiesto un ulteriore compenso di oltre 300.000 euro. Altri familiari della vittima dell'incidente, anche essi beneficiari del risarcimento, alla richiesta di pagamento hanno denunciato il professionista. I compensi richiesti illecitamente erano confluiti in un conto corrente e intestato ad una collaboratrice e nelle disponibilità dell'avvocato. Le indagini della Guardia di Finanza hanno verificato anche un pregresso ingente debito del professionista con il fisco. Oltre all'obbligo di dimora, l'autorità giudiziaria, sulla base degli accertamenti delle fiamme gialle, ha disposto il sequestro di somme e beni intestati all'avvocato e alla sua collaboratrice per oltre 375.000 euro.